E' stato bello oggi? Vi siete divertiti? Sì, molto. Perché? Perché abbiamo cinghiato, perché questo mare è bello e si naviga bene. Gli allenamenti arrivano a come consistono e con chi? Allora, consistono per fare virate veloci, e poi dicendo tipo Mauro fischia col fischio e noi dobbiamo virare. Facendo piccole regate. Esatto. Facciamo molto virate. E anche strambate. Sì, appunto. Poi ci fa partire, andiamo di volina. Fagli spiegare com'era la giornata di oggi a Tezza, che ha vinto due prove. Oggi com'era la giornata a Tezza? Era molto... il vento oscillava molto, c'erano molte raffiche, e si andava davanti, soprattutto non per la partenza, ma andando incontro alle raffiche e salendo di velocità. Ok, il vento era più bello, arriva o qua? Arriva, arriva. Questo si sapeva.